Chi è il maestro in game? It's video game Darlene, chi è il nome più divertente? It's video game Ciao a tutti da Svideo Siamo di nuovo su Life is Strange Allora, vediamo da che porta si può andare Ma lì c'è un bagno Guardiamo Oh, che buio, non riesco a vedere niente Nel frattempo salutiamo The Dark Allora Accendiamo l'interruttore Che forte quando c'è la nostra immagine allo specchio Allora, questi devono essere veramente i trucchi della mamma di Chloe Di Joyce Perché Chloe non userebbe mai prodotti testati sui cosi animali No, come si dice Allora, spero che Chloe... Allora, spero che Chloe... Spero che non sia lei a usare queste pillole Spero che non sia Chloe a usare queste pillole Dice... Guardiamo anche l'armadietto Mi piace la nuova tinta di capelli di Chloe È l'opposto di me che io sono così timida Ragazzi, parlo al femminile perché la protagonista è una ragazza Allora... Allora... Entriamo? Si può entrare anche di qua? Questa deve essere la stanza dei genitori di Chloe Sono proprio una curiosona oggi Però io volevo dire perché c'è... È sbattuto un uccello lì E... Allora... Dov'è? Se ti sposti magari vedo anch'io Ah, ecco... Allora... Oh, merda Poverino Dovrei fare qualcosa per salvarlo Non c'è problema, ragazzi Noi vi facciamo tornare indietro al tempo A cosa ci servono i poteri, se no? Per fatto... No, è morto di nuovo Allora, aspetta, rifacciamo Scusate Dai Adesso Devo aprire velocemente la finestra Che così passa l'uccello Ecco, è proprio passato velocemente Ragazzi, scusate ma... Cioè, è ovvio che Beard lo traduca con uccello Però mi fa ridere adesso Che penso a quello che ho appena detto Mi fa un po' ridere Allora Sei risuscitato, uccellino Ora vola libero Vabbè Agissi, reagisci o muori Guida di sopravvivenza al ventunesimo secolo Apocalisse Piestrine Che dolce David Matzen Beh, che dolce, che dolce Insomma, le piestrine Va bene C'è altro da vedere qua? Chiudiamo la finestra? Ma sì, chiudiamo la finestra Che così rimane lì Quell'animaletto Oh mio Dio Chloe ha fatto questa cosa per sua mamma Per la festa della mamma Tanti anni fa Ci credo che lo voglia tenere Custodire Perché sì, regali di questo tipo Ok Apriamo anche qua Joyce lavora ancora al ristorante E se è suo marito un poliziotto Povera Chloe Dunque, guardiamo lì cosa c'è Guarda Ah, si può accendere anche qua la lampada Guardiamo la foto Joyce sembra molto felice Forse il patrino non è un vero completo disastro Diciamo Diciamo Va bene Dai, usciamo E lasciamo L'uccellino azzurro Là a cinguettare Ma che sia un Ecco cos'è Twitter L'uccellino azzurro Allora Left bus button Ah, per scendere dalle scale Ok Sì, perché noi dobbiamo cercare sempre gli attrezzi Per riparare la macchina fotografica Non sembra che la famiglia sia in buone acque Con i pagamenti Perché dice Le finanze sono state chiuse Qualcosa del genere più o meno Ah, questa è la clò che mi piace ricordare Sempre sorridente È divertente Vabbè Infatti, guarda È molto spensierata Diciamo in tutte le varie foto Allora, guardiamo Ah, sì Sapete quella Come si chiama Quella ragazza Mary Beh, la Marsh La Marsh Quella che abbiamo salvato Insomma Ci ringrazia ancora Quella che abbiamo Nella scorsa puntata Che c'era Abbiamo acceso sta tv Ma ronza e basta Fa casino Guardiamo delle altre foto Joyce lavora ancora al ristorante delle due balene Che ha i dannati hamburger più buoni che ci siano al mondo Dai Oh ma questo è il nostro sofà Noi fingevamo che fosse una nave dei pirati Ora sembra più una nave naufragata Insomma Il resto di un naufragio Diciamo Eh, guarda qua la macchia Mi ricordo Che Con delle bottiglie ci siamo scontrati Insomma 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 Erano ubriache Se avessi fatto io questa foto Il cervo te l'avrei ficcato su per il culo Questa l'ho tradotta bene Brr Sento l'autunno che spinge contro l'estate Insomma Che sta per arrivare Diciamo William era solito grigliare fantastici hamburger Chissà se qualcuno ha usato la griglia ancora Oltre a lui Dopo di lui Insomma Allora Qua cos'è una tomba? Una lapide? Abbiamo fatto questa tomba per il gatto di Chloe Povero Bongo Non aveva mai visto la macchina che arrivava Eh, povero Bongo Questo Chloe e me Ah Chloe e io spendevamo tutto il giorno a fare questo disegno Adesso non è neanche così tanto visibile Oh c'è un'altalena Ci guardiamo Oh amo questa altalena William l'aveva fatta per me Chloe Adesso ci sediamo Cosa vorresti fare quando sei più cresciuta? Max, ma io sono già cresciuta E tu? Viaggiare sarebbe fantastico Esplorare il mondo Andare lontano da qui Lontano da me? Grazie mille Ma tu verresti con me Io ho bisogno di una guardia del corpo per le mie avventure Io sarò come Lara Croft Però molto più reale Sarebbe molto più figo Veramente Avremo macchine, navi, aerei Per fuggire in ogni dove Senza genitori che ci debbano dire cosa fare Puoi contare su di me? Beh, io farei foto delle nostre avventure Sarebbe fantastico Ma cosa stai dicendo? Max, tu sei una fantastica fotografa Le tue foto dovrebbero essere in un museo In futuro Io so che sarà così Io credo in te In quello che fai Sì, scusate ragazzi A volte mi incarto un po' Mentre i dialoghi passano veloci È così tranquillo qui È così tranquillo qui Sembra come un giardino giapponese in Oregon Bellissime Spegniamo sta tv che mi ha già rotto le bolle Dove possiamo Perché devo ancora cercare questi attrezzi? Cosa c'è in quel bicchiere? Oh, avrei amato tanto andare a Parigi A questo punto saremmo fortunate Se riusciremmo ad arrivare a Portland Ecco, qui dovrei riuscire a trovare gli attrezzi Per riparare la macchina fotografica Va bene ragazzi Troveremmo gli attrezzi Per riparare la macchina fotografica Nella prossima puntata Ciao DASVIDEO